Esame Lavello per il Brindisi chiamato a riscattare la sconfitta di Altamura per una difficile ripresa del campionato per la formazione biancazzurra. La sfida intera altamurana sicuramente portava dietro di sé numerose problematiche, nonostante il Brindisi abbia fatto davvero troppo poco per poter dare un giudizio seppur minimo positivo alla prestazione biancazzurra. Certamente il lungo periodo di stop, il mercato con uscite di peso sul piano qualitativo e di esperienza e arrivi ancora da integrare in ritardo di condizione e non per ultimo. La tragica scomparsa del massaggiatore Zucchero alla vigilia della partita, tutte motivazioni certamente valide che in parte si riproporranno nella sfida di mercoledì pomeriggio contro il Lavello. Per la formazione biancazzurra serve ritrovare punti e serenità in vista di una seconda parte della stagione particolarmente impegnativa che vedrà il Brindisi chiamato a cercare nel più breve tempo possibile punti salvezza. Sicuramente la sfida con il forte Lavello non arriva nel momento migliore per la formazione brindisina, che sarà comunque chiamata ad un atteggiamento diverso rispetto alla sfida di Altamura. Non è escluso infatti che il ministro De Luca decida di variare in parte gli uomini in campo, ma che soprattutto decida per un modulo che dia più certezze in fase difensiva, tornando alla difesa 4. Fischio d'inizio programmato mercoledì pomeriggio alle ore 14.30.